e ciao a tutti ragazzi del jtf clan io sono jtf attentive e oggi raga siamo qui con il ritorno delle top 5 plays of the week in questo caso raga vi portiamo una top 5 delle nostre migliori clip che abbiamo fatto su call of duty black ops 4 finora abbiamo messo a punto alcune delle clip giusto per fare il ritorno di questa serie perchè con oggi raga tornano le top 5 qua sul canale del clan e mercoledì come abbiamo sempre fatto di mercoledì portiamo una top 5 e questo qui sarà il primo episodio di quelli black ops 4 ho deciso in questo caso di farvela del clan perchè purtroppo non ci sono ancora le clip essendo che non c'erano le top 5 precedentemente quindi in questo video vi vado a informarvi del fatto che riaprono le top 5 quindi raga molto importante l'email ve la lascio scritta in questo momento a schermo è jtf cod clips chioccio a gmail.com inviateci le vostre migliori clip per comparire all'interno della top 5 plays of the week che faremo con cadenza settimanale il mercoledì quindi raga vi chiedo soprattutto per questa settimana di inviarvi veramente tante clip se riuscite fatelo anche prima di domenica perchè io prossima settimana sarò via e quindi la top 5 la farò domenica di conseguenza vi do tempo fino a domenica per le ammissioni di questa settimana se no andrete poi nella settimana successiva con la vostra clip non perdiamo tempo e passiamo subito alla quinta posizione della top 5 in quinta posizione raga troviamo il nostro zidon che si trova su summit con un mx9 ci fa una quad con multi kill perchè è un più 400 e purtroppo viene ucciso da dietro se no sarebbe potuto essere veramente un devasto assurdo comunque bella clip quinto posto meritato in quarta posizione raga troviamo il nostro demon che è tornato vedrete presto anche un suo bel lavoro qua sul cane del clan che con lo sniper ci porta questa bella clip fatta su slums lo sniper se non sbaglio dovrebbe essere il paladin e ci fa questa bella quad che viene messa come giocata della partita ovvero kill cam di call of duty black ops 4 una quad abbastanza carina a me è piaciuta anche se è dentro lo spawn nello spottino dove si fanno le feed più avanti non varrà molto ma adesso comunque una clip abbastanza carina in terza posizione raga troviamo la nostra spugna jtf sira che si trova su firing rage dominio veterano e il nostro sira raga sta facendo devasti su questa modalità e ci fa questa bella feed se non sbaglio finisce a essere una 5 on screen e dentro lo spawn è una clip abbastanza carina che si merita tutto il terzo posto in seconda posizione raga troviamo il nostro tempo che fa una clip veramente sculatissima in pratica lui si trova dentro lo spawn su questa mappa icebreaker spara a lanciare granate di batteri e ci fa questa six on screen molto bella e poi va a raccogliere le piastrine per farsi i suoi bei punti rivediamo anche l'azione nella kill cam finale giocata della partita è una clip abbastanza carina perché comunque raga trovare tutti e sei i nemici lì non è per niente facile ma al primo posto raga ritroviamo la nostra spugna jtf sira che su summit sempre con il suo cr sempre su dominio veterano ci fa questa six on screen molto bella che a me è piaciuta molto anche per la reaction compa compa e niente raga qui il video è giunto al termine io vi chiedo di lasciare un bel numero di like se vi è piaciuto il video mandarci tutte le vostre clip migliore all'email che vi ho già indicato ovvero jtf code clips chioccia gmail.com vi chiedo come già detto di lasciare un bel like un commentino iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e ci si becca al prossimo video bella